Polemone. Senocrate muore nel 314 a.C. e nel mezzo secolo seguente l'Accademia di Platone risulta dominata da tre filosofi che contribuiscono a generare una trasformazione nel clima culturale. Una trasformazione tale da rendere l'antica scuola di Platone, l'Accademia, ormai allineata con le tendenze filosofiche proprie delle scuole dell'età dell'ellenismo. Questi tre autori sono Polemone appunto, che per molto tempo è a capo dell'Accademia Platonica, ragionevolmente fino al 276-275 a.C., poi Cratete di Atene, che succede al suo maestro Polemone per un breve periodo, e infine il terzo autore dell'Accademia post-Platonica è Crantore di Soli, discepolo di Senocrate e compagno di scuola di Polemone. Non ebbe però in realtà lo scolarcato dell'Accademia, anche se si contraddistinse come autore di riferimento dell'Accademia per un certo periodo di tempo. Per quel che riguarda Polemone, egli nasce da una famiglia agiata di Atene e trascorre una giovinezza dissoluta tra sregolatezze di ogni tipo. All'improvviso si converte alla filosofia grazie a Senocrate, in particolare la conversione avviene quando Polemone ha occasione di sentir parlare proprio Senocrate intorno al tema della moderazione, tema molto sentito nell'Accademia di Platone se si considera ad esempio il filebo platonico, dialogo in cui si pone al centro l'idea della giusta misura come via verso la virtù e verso il piacere moderato. Dopo aver sentito Senocrate sermoneggiare intorno alla moderazione, Polemone si trasforma, cambia genere di vita e di fatto diventa filosofo. Un poco alla volta acquisisce compostezza di modi e rigore morale a tal punto da divenire famoso proprio per queste virtù che in qualche modo lo portano ad abbandonare la sua giovanile vita sregolata e dissoluta. A questo riguardo Diogene Laerzio nel suo studio dossografico Vite dei filosofi racconta questo aneddoto nel libro quarto. Quando un cane rabbioso gli sbranò un poplite egli non impallì di neppure. Diffusasi la notizia del fatto in città divampò un tumulto ma Polemone restò impassibile. L'episodio raccontato da Diogene Laerzio è importante, da che afferma nel modo più evidente, come ormai anche nell'accademia platonica, la filosofia fosse diventata sostanzialmente una pratica di vita, proprio come era tipico appunto del nuovo sentire proprio dell'età ellenistica. Come noto l'età ellenistica tende sempre più a trascurare le questioni metafisiche e gnosiologiche per ridurre sostanzialmente la filosofia soprattutto alla questione etica. Non solo nella pratica di vita ma anche nelle affermazioni filosofiche Polemone si trova perfettamente in linea con il nuovo zeitgeist, con il nuovo spirito del tempo proprio dell'età ellenistica. Così racconta ancora Diogene Laerzio nelle Vite dei filosofi. Polemone era solito affermare che bisogna esercitarsi nei fatti concreti della vita e non nelle speculazioni dialettiche, per evitare di essere come uno che abbia imparato a memoria un manuale di armonia musicale e non sappia esercitarla, e quindi per evitare di riscuotere ammirazione per l'abilità dialettica e di essere incoerenti con se stessi nel disporre della propria vita. Secondo questa narrazione proposta da Diogene Laerzio, dunque, la filosofia in Polemone diventa soprattutto pratica della vita, esercizio esistenziale. In qualche modo questa tendenza, che sicuramente avvicina Polemone e l'accademia alle tendenze ellenistiche in auge, altrettanto sicuramente li distanzia da Platone. In particolare Senocrate aveva distinto tre parti della filosofia, fisica, dialettica ed etica. Ebbene, proprio di quest'ultima parte dell'etica, si interessa Polemone in maniera preminente se non esclusiva. Il paradigma della vita morale, Polemone come Giaspe, Usippo e Senocrate, lo ravvisa nella physis, nella natura, vale a dire nella vita cataphysin, secondo natura. In particolare al tema della vita secondo natura, Polemone dedica un testo che, per quel che apprendiamo, sviluppava la concezione, ormai adottata come fondamento dell'etica, a ben vedere da tutte le scuole ellenistiche, al di là delle loro pur non trascurabili differenze. Che cosa vuol dire secondo natura, cataphysin? Come per Speusippo e poi per l'accademia posteriore, cataphysin, secondo natura, sono anche per Polemone quei beni che riguardano lo spirito, come la virtù, ma anche in subordine quelli che riguardano il corpo. La felicità può essere raggiunta unicamente con la virtù, ma per una felicità perfetta non bisogna trascurare neppure i beni inferiori, quelli del corpo. Neppure così distante doveva essere, in fondo, rispetto a queste posizioni, la prospettiva dell'ultimo scolarca dell'antica Accademia, Cratete di Atene, che con Polemone mantiene legami assai solidi. A questo riguardo racconta Diogene Laerzio, sempre nelle vite dei filosofi, nel libro quarto, in vita non solo ebbero i medesimi interessi e la medesima attività, ma anche fino all'ultimo respiro divennero sempre più simili l'uno all'altro e morti ebbero comune la tomba. Dunque, Polemone è interessante come guida dell'Accademia di Platone, ma soprattutto perché con Polemone ormai l'Accademia di Platone assume una curvatura che davvero con Platone ha poco a che vedere. È ormai l'Accademia una scuola post-platonica inserita nella cornice dell'ellenismo con il quale condivide soprattutto l'istanza etica come dominante se non come esclusiva.